Alvia la 92esima edizione di Pitti Filati. Da domani fino al 27 di gennaio in mostri campionari per la primavera estate 2024. Sono 26, circa un terzo degli espositori, le aziende del distretto patese che saranno presenti alla fortezza da basso. Intanto, secondo i dati elaborati dal Centro Studi di Confindustria Toscana Nord, nel quarto trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, gli ordini verso i mercati esteri sono cresciuti del 19% e la produzione aumentata del 12%, mentre il fatturato complessivo dovrebbe raggiungere i 720 milioni. A trascinare l'export sono soprattutto Germania, Romania e Turchia, mentre per Cina e Hong Kong il segno è ancora negativo. Sempre sul fronte dell'esportazione, nei primi nove mesi del 2022, si registra un incremento del 28% sullo stesso periodo del 2021 e del 14,8% sull'ultimo anno pre-Covid. Le oltre tante imprese produttrici di filati, sia per maglieria che per tessitura del distretto patese, contano più di 1.700 addetti. Nel 2021 hanno ampiamente recuperato quel 25% di fatturato che avevano perso nel 2020, raggiungendo i 635 milioni, di cui 40 realizzati all'estero. Andiamo in fiera fiduciosi perché conventi del valore del nostro lavoro, commenta Raffaella Pinori, coordinatrice del gruppo produttori di filati di Confriindustria Toscana Nord. Siamo attrattivi per i mercati e quindi in una posizione di forza. L'energia rimane però una criticità importante, insieme ai costi di materie prime e dei trasporti.